Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea regionale. In primo piano ovviamente la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ripartenza dell'Aula di Palazzo del Pegaso all'insegna della rielezione a Vicepresidente del Consiglio regionale di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Ci sono stati in queste ultime settimane anche dei cambiamenti all'interno dell'Aula di Palazzo del Pegaso con il passaggio del Consigliere Maurizio Sguanci da Italia Viva a Forza Italia e con l'altro passaggio della Consigliera Elisa Tozzi dal gruppo misto a Fratelli d'Italia. I lavori del Consiglio regionale dopo la pausa estiva sono ripresi con la rielezione di Stefano Scaramelli a Vicepresidente dell'Assemblea Toscana. L'Aula infatti come da regolamento si è aperta con la presa d'atto della decadenza dalla carica e relativa elezione subpetiva resasi necessaria a seguito della consistenza numerica del gruppo consigliare di Italia Viva che dopo l'uscita di Maurizio Sguanci passato tra le fila di Forza Italia è rimasto composto da un solo consigliere Scaramelli. L'ex consigliera della Lega Elisa Tozzi invece è passata dal gruppo misto a Fratelli d'Italia. Sì, un'elezione non banale né scontata. Essere eletto per tre volte in tre anni, rieletto sempre Vicepresidente del Consiglio regionale per me che rappresento una forza politica come Italia Viva che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del Presidente Gianni in Toscana che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente, corretta e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi tre anni non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il Presidente Mazzeo, lavorando con l'Ufficio di Presidenza sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali ho onestamente ringraziato pubblicamente le colleghe e colleghi della maggioranza per la fiducia accordata a me. Io credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è l'indirizzo, per quello che riguardano le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città ma anche nei macrotemi a livello nazionale, per quello che riguarda il Job Act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e Partito Democratico. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici, non è stato facile, per me è stata una cosa anche dura. Io ho iniziato con Matteo Renzi nel 2008, è stato un percorso per certi versi straordinario, come tutti i percorsi a volte si trova la fine della strada e poi magari invece una strada che ti porta verso un altro territorio non dissimile da quello che stavi percorrendo. Alla fine è successo questo. Direi che dopo aver trascorso un anno e mezzo nel gruppo misto, quindi aver fatto anche un po' di valutazioni rispetto a quello che poteva essere un percorso politico anche rinnovato, pur sempre nell'ambito però del centro-destra e convintamente all'opposizione. Oggi il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee, un partito che ha dimostrato di essere con la sua Presidente Giorgia Meloni un partito che può davvero aprire ad una classe dirigente nuova per il Paese. Abbiamo una Presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico che può davvero dare un qualcosa in più rispetto a quello che è la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi, come dire, schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale. Ecco, io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. Consiglio regionale che si è rivelato unito sul tema della riforma dell'emergenza urgenza ed ha votato all'unanimità. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di risoluzione che si occupa dell'attuazione della riforma del sistema regionale di emergenza territoriale con il coinvolgimento delle associazioni del volontariato. L'atto impegna la Giunta Toscana a garantire la massima condivisione con le associazioni di volontariato, sollecitando le aziende e unità sanitarie locali ad adottare metodi omogenei affinché si realizzi lo stesso livello di coinvolgimento sin dalle prime fasi del percorso. Chiede inoltre di adottare soluzioni in grado di favorire progressivamente la costituzione di un unico riferimento a livello regionale del sistema di emergenza sanitaria territoriale capace di assicurare una gestione omogenea in termini di formazione, attuazione dei protocolli operativi, uniformità delle procedure e delle attrezzature. Il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale, dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori la necessità A che vengono coinvolte in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, il risorio come 50 centesimi talvolta crea un appesentimento burocratico che si può eliminare e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe, per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti, questi gridi di allarme devono essere recepiti, credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto, tanto è vero che le audizioni eseguite in Commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste. Un altro tema affrontato in aula in Palazzo del Pegaso è stato quello delle tariffe delle mense universitarie con un'interrogazione da parte della consigliera del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, che ha chiamato in causa il presidente della Toscana, Eugenio Gianni. Le tariffe non riguardano direttamente le scelte compiute dalla Giunta Toscana perché a deciderle l'azienda regionale per il diritto allo studio, ente che ha il suo bilancio e le sue prospettive di investimento, la regione esercita una supervisione. Sulle mense i prezzi erano insostenibili e ho consentito a quella che è una manovra che aumenta leggermente e in modo non significativo le tariffe consentendo di ridare all'azienda un equilibrio di bilancio. Con queste parole il governatore Eugenio Gianni ha risposto in consiglio regionale a un'interrogazione presentata dai Irene Galletti del Movimento 5 Stelle sull'aumento dei prezzi della ristorazione universitaria in Toscana. Sono mortificata dalla risposta che è stata data da Gianni a nome di tutti quegli universitari che si sono sentiti dire che gli aumenti per la ristorazione nelle menze universitarie sono irrisorie e neanche se ne accorgeranno. Perché significa non vedere che fuori c'è un mondo di ragazzi che si accampano per protesta con le tende contro il caro affitti e l'impossibilità di affittare nelle grandi città perché tutto viene dato con affitti brevi per il turismo. Significa non vedere che il trasporto pubblico locale è aumentato con servizi sempre più scadenti. significa non vedere che le famiglie della classe media la più bistrattata in questo momento in Italia non ce la fanno più a mandare i loro ragazzi all'università e che da ora in poi il diritto allo studio in Toscana diventerà una chimera che sarà possibile soltanto o per i nullatenenti che riescono però ad ottenere tutti i benefici del diritto allo studio oppure per le classi più agiate quelle che riusciranno a garantire per più anni la formazione universitaria ai propri ragazzi. Per tutto il resto l'Italia che è uno dei fanalini di coda per la presenza dei laureati in Europa e non solo in tutti i paesi Ox continuerà a rimanere tale proprio perché non viene garantito il diritto allo studio e con questo passaggio ulteriore dell'aumento che è stato profondamente voluto dalla regione si incide ancora di più su quella socialità su quel mondo che è il mondo universitario che si vedrà di nuovo penalizzato dal punto di vista economico e quindi per tutto quello che è il loro diritto a frequentare l'università e a frequentare gli ambienti dove gli universitari socializzano. Chiudiamo con un importante riconoscimento assegnato dal Consiglio regionale Leali del Pegaso ad un sedicenne aretino che qualche settimana fa ad inizio luglio è riuscito grazie al suo intervento con il defibrillatore a salvare la vita ad un uomo che era stato colpito da arresto cardiaco. Sicuramente mi ha segnato e me lo porterò per sempre dentro e sicuramente non dico di essere più responsabile o nulla ma alla fine a parte il boom giornalistico che c'è stato non mi ha cambiato molto a parte la prima settimana che magari qualcuno mi fermava e faceva complimenti a quel ragazzo che ha salvato Marcello però se no non è cambiato molto diciamo. Salvare una vita ti cambia per sempre lo sa bene Alessandro Dioni il sedicenne che a inizio luglio ha salvato la vita al padre di un suo amico colpito da un arresto cardiaco durante una festa nella parrocchia di San Marco ad Arezzo il tempestivo intervento del giovane con l'utilizzo del defibrillatore come imparato nei corsi scolastici è stato omaggiato anche dal Consiglio regionale che lo ha premiato con Leali del Pegaso. Ho iniziato io con il massaggio cardiaco e nel mentre avevo chiesto un defibrillatore e mi era stato detto che appunto ce n'era uno all'imparrocchia poi in seguito ho attaccato le piastre ho dato tre scosse a Marcello e poi sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. I momenti più difficili sono soprattutto quando vedi il bottone verde e il defibrillatore ti dice shock consigliato e è il momento di cliccare e vedi la persona che pervasa dalla scossa elettrica praticamente si stacca da terra e vedi questa immagine che non è proprio una cosa felicissima e poi anche il momento in cui siamo accorti che non c'era battito e tocchi il corpo e cerchi le vene ma non c'è pulsazione. Abbiamo voluto mandare un messaggio con questo premio un messaggio che non bisogna voltarsi dall'altra parte che bisogna mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare le vite umane e questo è quello che ha fatto Alessandro un defibrillatore la possibilità di saperlo usare quindi la formazione anche questa è molto importante che ha permesso di salvare una vita umana allora noi bisogna costruire tutti insieme le condizioni perché oggi, ancora oggi i defibrillatori non ci sono in tutti i nostri territori perché siano uno strumento che salva la vita e soprattutto costruire le condizioni per formare più ragazze e più ragazzi a essere consapevoli e a saper utilizzare il defibrillatore come strumento per salvare le vite umane. Questi dunque erano tutti i principali argomenti dell'edizione odierna della Voce del Consiglio l'appuntamento come sempre torna su RTV38 tra una settimana grazie per l'attenzione e buona proseguimento arrivederci a la voce del Consiglio